Oh, giù, 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 un po' meno alto, un po' meno alto, bilanciamento perfetto, right in the middle, anche qua e anche qua, perfetto. Ho messo a posto la pulsantiera, davvero un guru della telecronaca. Il Godzilla, eccolo qua. Jake LaMotta, amico di Jake Alemagna, ok? Promosso. Va bene, dai! Ma in chiama? Uno, due, tre, quattro, cinque. Hai parlato di Charlotte e io devo parlare di Charlotte. Porca riva, no, scusami. Charlo alla città e ho messo questa roba. Abbi pazienza. Qua, 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 qua. Vabbè, capita, non è mica morto nessuno, lo rifacciamo, dai. Sì, appunto. Bisogna portare qua un violino. Tortigio dietro col violino sarebbe fatto male. Vabbè, veramente, tipo i mariacci. Sì. Fatalità. Quando tu fai il ric***e che non lo sei, puoi fare tutto nella vita. Puoi fare tutto. Quindi impegnati, Frank. Entra nella parte. Non c'è problema. Magari puoi andare giù da basso. Dai, pazze! No, non mi piace. Una puntata di SmackDown che sono certo vedrà. Shinsuke Sae! 2-0 per il bardo. SmackDown! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada